Si, si butta senza timore A caso Ma che ci moriamo? Aspettate raga che vado su Youtube Che devo vedere la chat se mi scrivono Boom Aspetta Ehm Gabriele Parisi No Siamo nei poveri Ma Frizzel Frizzel What? Gabriele non c'è nessuno Ah no c'è un team C'è un team C'è solo un team C'è solo un team Gabriele Li possiamo killare easy Ok ce l'ho fatta Ragazzi c'è solo un team Lo squalo prima città Tattico verde come prima arma di nuovo Io ho una pistolina Cosa ho provato secondo voi nulla qua Un famas Un assalto che preferisco il famas E' un Pazzo E' un Pazzo Famas verde Ho sei granati Il compenso Posso killare sky con le sei granate Vero? Ho tutti i loot giusti Ora mi servirebbe un assalto normale Un assalto normale Perché è un famas verde Un assalto normale Allora mettete like Iscrivetevi Attivate la campanellina Per tutti i miei video E' 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 Scusate Sono 10 milani sky Ha disattivato le cose C'è sky qua sopra C'è sky Ci sono i tipi qua sopra Io non c'ho raggi Mi faccio sfogra Ma l'hanno killato sky L'hanno killato sky Non lo so Dov'è il cavo? Mi ricordati dove è il cavo? Ma perché? L'hanno jack in lato sky Gente? Gente? Dove sono? Dove sono? Ah c'era uno Ma gli ho killati almeno Guarda che gli ho killati eh No ho atterrato uno Va metti pronto Questa Ti sei suicidato E' stato killato quel tizio Era guancia Tu te lo potevi fare con un'altra arma Era bianca Era bianca Pensavo avessi un'altra arma E ho sperato Ma tua sorella mi Ah no scherzavo Cosa? Pensavo che tua sorella mi stava guardando in live Mamma ancora so La condivido su whatsapp il mio stato e non c'è nessuno E non c'è nessuno Mette un like da parte mia Ah è vero io non l'ho messo il like io Ok l'ho messa io Ok l'ho messa io Ok l'ho messa io Portiamo mongrell sul canale E io porto anche kaygots Andiamo allo squalo di nuovo Basta lo squalo Parco parco No andiamo a borgo Io vado allo squalo E' ok E' ok Non c'è problema E' da una vita che non andiamo a borgo Oh raga chi è che mi sto aspettando Scrivi in chat Ma nessuno ti sta osservando Ho due like Povero di iscritti L'avrà messo tua madre Raga scrivete in chat che mi sto osservando Ma sono io lo spettatore Ci andiamo qui a prendere la Tommy Eh la Tommy Se arriviamo a borgo C'è solo un team No Molto di più Molto di più Molto di più Io sono atterrato stramale Sono atterrato stramale C'è ne uno che è atterrato qua Peggio di Sono atterratore Eh sto atterrando dove sei che perché Lasciami la chest Matteo sono venuto io Però mi dai Mi lascia il loop sotto Fa un po' ok Lasciami sta chest Shit pompa Cos'hai trovato? Tattico verde Dai tirate te le esca Sì sì Chi mi sta osservando raga Chi mi sta aspettando scriva Se lo vuoi? No Ragazzi Nico mi stai salvando te Scrivi in chat 28 blue uno Ma dov'è? Ma dov'è? Ah eccolo Mi ha fatto solo un 28 blue No se n'è andata No Ma dove sono? Un tizio è morto Un tizio è morto Oh mi sono fatto il medikit per pochissimo Anche mi stavo sparando uno dietro Sparando uno dietro E la mia madre comunque lo spettatore Il tato bianco La Ok visto Qua c'è un amico penso Ho uno di vita 29 bianco Shit Shit Ho finito materiali Ho finito materiali Antio io ho uno di vita Eh vabbè Non avevo materiali Che schifo proprio Proprio lo schifo più Più schifo Di schifo di una partita Cioè non ne potevamo Non ne potevamo fare una peggio Anzi si Quella di prima Mi sto osservando mia madre Mi sto osservando mia madre Ha scritto peccato Ha scritto peccato Eh sto qua un pesce secco Ha scritto forza Matteo Mia madre Ma adesso ti rispetto anch'io Ti metto un bel pollicione all'insù Che schifo Vai tre like ora Grande Già tre like mamma mia In cinque minuti Cinque minuti Dal vivo ragazzi dal vivo Ma mi sei osservato Vai in dimensione Cioè Allora quindi siamo Due spettos tre Ciao Ciao A me non mi è arrivati i messaggi Non mi è arrivato Matteo nei commenti Ah è il ritardo Ah si 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 La live è indietro Perché così Il frigo Io ti guardo anche da qua E no perché è il ritardo Non fosse il ritardo Sto cosa Sarebbe Strautile Mi lasci Quegli Scigli Ok Frigo No 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 Assalto verde Te l'apro Io Te l'apro Un preghetto blu No 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 Dammi lo sciglino Togli il volume Matteo Togli il volume Matteo Io l'ho tolto Io l'ho tolto Anche io Oh no Tre spett raga Tre spett raga Io te Mamma se ci sei ancora te scrivi Sì sì ancora te scrivi Ok Tu ti fai la casetta Io ponte No No Eh sì ormai Se della casetta No gabri gabri Ho pensato che c'è Se delle munizioni Eh li fatti No Vabbè Sì pompe Cidone Sì pompe Io la fiocina me la prendo Posso pescare Posso pescare Ormai C'è un tipo Ma dove sei te No non è vero No non è vero però C'è un delle costruzioni In questa casa Quindi ci potrebbe essere Mitraietta blu Io ce l'ho L'ho trovata per terra anche C'è Che mito Che mito Le hai lanciati sei bot No E chi le ha lanciati allora Io non le ho lanciati Sono gli nemici Raga quattro spett No way No way Chi mi sto osservando Scrive in chat Scrive in chat Vabbè verde lo so Granate C'è che le hai lanciate No no Io non le ho lanciato Allora c'è gente Allora c'è gente Dai Non riesco a trovare Armi decenti L'unica arma decente che ho è Oh jump E la mia pariglietta blu Matte ma stai scherzando che le hai lanciato le granate o erano nemici? Ah no io non le ho lanciate No Un bot Un bot Le hai tirati i temati Lo sapevo che li temati I bot li ho tirati io Ma le granate no eh Fai bot Quando sono in alto Restano Restano fermi Così buggero Va tipo verde se vuoi No, spero di ritrovare questa cosa. Non crederete, va bene. Io mi taglietta più forte del gioco. Anche te. Anche io. No, ora siamo tre spette. Io però la fioce non me la facendo. Io ce l'ho già. Che noia però fare i mazze. Io ho una fioce no. Anch'io. Che ho costruito qua? Dieci. Ah, ma è una bort. Ti giuro che questo non c'è. Ma hanno fatto solo muri. È una scala. Dai. Eh, ti pescato. Ti pescato. Ti pescato. No. Oh, è gente che nuota. Un po' che nuota. Senti più che nuota. Tattico blu. Attento, attento. No, è fortissimo. È fortissimo. Mamma mia. Grande Dread. Ciao Thomas. Ciao Thomas. Stava per killare. Ma chi è tuo Thomas? È un mio amico. È un mio amico. Ciao. Bisogna una leggendaria. È un mio amico. Mamma mia. Mamma mia. C'è gente con l'elicottero. No, che prendo danno. Ecco. Li posso pescare con la fiocera. Posso più vicini, sì. No, perché? 62 a 1 in handshot. Una è praticamente morta. Ho la peso uno con la fiocera, però. Cosa? Come hanno fatto killarmi? Torniamo in l'armi, ma torniamo a fare un po' creativa. Io non ci sarei l'ho. Uno ha fatto 135. Andiamo a fare clicks clicks. E' 45. Non si può. No, troppo, non lo hai. Eh, raga, la vita è ingiusta. No, la vita è ingiusta. Ciao, Gabri. Guarda, eh. Spam.df in chat. No, no. No, no. Guarda che è una cosa bella, il spam.df. No. No, bu, 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 bu. Andi, eh. Ehm. Ciao. Ciao. Come va? Ah, Nicola e Pittavino. Anicole e Pittavino. Il fratello di Alessio. Il fratello di Alessio. Ciao. Ciao. No, perché ho messo il video in pausa? Vai, amanti. Avanti. Ma sei in caricamento a te, per caso? Sì. E la stanghetta? Ce l'ho piena, lì non è piena. Ce l'ho piena, lì no. Sì, qua è piena. Però sono entrato. Sì, qua è piena. Togli il volume. Sono entrato ora. No, non l'abbiamo messo creativa, qui te. Sì, qua è piena. Sì, qua è piena. Sì, sì. Beh, non lo so quando la finiamo la live, quando staccheremo. Ora faccio creativo contro Matteo e dimmi certo se sono forte. O Matteo. O Matteo. Oppure tutti e due. Oppure tutti e due. O Matteo. Ha scritto ok. Ha scritto ok. Scrivi la tua schiena preferita. Oh Nico, qual è la tua schiena preferita? La tua schiena preferita. Nico si è scritto. Nico si è scritto. Nico si è scritto. La tua schiena preferita. La mia è corvo. La mia è la calciatrice. Iscriviti Nico. Iscriviti Nico. Ha scritto non ancora. Iscriviti Nico. Ha scritto non ancora. Say like. Sei like. Matte. Matteo. What? Sì. Già. Già. E ora posso mettere il like dagli altri account. All'altro account. Non so che mappa abbia messo. Io voglio mettere la clix. Io voglio mettere la clix. Eh ho messo una box fight però. No mettiamo clix. Box fight senza la safe no. La clix. Vieni qua. Gabrie. Aspetta. Aspetta. Sto vedendo qua i messaggi. Un giro ancora. Devo rientrare con l'altro account. Diviso. 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 Ok. 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 Ho tre spettatori e sette like. Mentre cambio squadra. Ok. Ora sto entrando. Sto entrando. No. Oh no. Gli ho scoppio di là. No. Oh no. Gli ho scopriato di là. 6 come ho fatto a farti così tanti danni non lo so cosa gg no ti pare che cosa fa le partite insieme no che dici nicolo ti pare oh nico scrivimi in chat e poi letto un nome sulla play così ti mando la richiesta cosa ma non ci credo ma nooo non costa ma cosa ho mai dati youtuber più famosi e pagamento fare le partite insieme ma se no ma poi ho pochi iscritti quindi non posso non le faccio pagare a nessuno volevo fare il manga la classic nicole ha installato Fortnite ti ha fatto l'aggiornamento ti ha fatto l'aggiornamento ma cosa non mi hai chiuso il la finestra vedete dalla live si si l'ho visto dalla live si ho fatto l'aggiornamento non ti aspetta 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 ok no guarda che guarda scrivete in chat se devo spammare eh sono obbligato ho 20 di vita non mi ricordo quanta vita avevo sono stato obbligato a spammare ah ah capito nico capito nico ho 20 di vita non ho riflesso no nico secondo te sono forte secondo te sono forte no guarda nico lo ma cosa ma siamo fatti qua cosa tu 100 vero? 100 ti ho fatto 100 110 ho visto dalla live no ma allora scrivimi nico scrivimi il tuo nome della live così te la mando già così ti arriva già sulle notifiche o no di giochi no di giochi o no di giochi ma cosa no Grazie a tutti Ma come mi hai fatto a distruggere l'assoluto la tua roba? Ma mi cos'è? Ma mi cos'è la struttura? Hai visto che non mi chiudeva la struttura di nuovo? Dopo un po' da fastidio però Ho un attimo la materiale tarry yard Se riesco Ma cosa? Ma ci facciamo male No che mi è passato Io ho fatto tutti e è iniziato con l'assalto Ciao anche Giacomo Ciao Giacomo Si sono Gabri Giacomo Ciao Giacomo Oh cosa? Oh cosa? Sì si sto stando in capoce Raga mi passa le strutture Che si mette la scalla gialla La scalla gialla Giacomo sei ancora in live? Ok Giacomo Ok Giacomo Ok Giacomo Ma com'è possibile da quella distanza? Fate fatti Ci ho poi fatto solo 20 eh Cosa? Volevo dipendere le live quando le faccio Qualche cosa Un giorno sì Un giorno no Non lo so Però faccio di più video Un bel 33 in capoccio Te lo sei pigliato No che non mi ci deve No Vaga non finì la più Ma cosa mi ha sparato il pompa raga? Troppo forte No che non mi erita No che no cosa sto facendo? Non sai che panico non mi erita Ma che cosa hai fatto tutti handshot dai Tutti Tutti Neanche uno Hai tirato l'embot Io ho preso 32 Bravo Nico hai messo like nei video Guardalo che spammone Dai per il live non gioco eh se spammi Ok 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 Sto spammando un po' tanto Sto spammando un po' tanto Sto spammando un po' tanto Dimmi se lo vuoi iniziare a far garantire, vai di nuovo Ma cosa? Dai Sì, ragà Ma che fu Per fortuna Ciao Alessia Hai messo like Alessia? Mi hai messo like Alessia Uh, batte 8 like la prima volta così tanti like Ma cosa? Come hai fatto a farmi così tanto da lontano? Ho fatto poi solo 40 Solo? Da lontano? Da lontano Ma cosa hai risotto? Ah, ok, brava Raga, dobbiamo rimanere a dirci like in sta live Alessia Metti Metti l'account della scuola E metti il like da qua E se non sei iscritto, è iscritta anche da quello E io ho fatto così Io ho fatto così Cosa? Cosa? Figliatelo in saccoccia Vabbè, il cintazzo Ma che cavolo Come fa? Io non capisco Il primo che arriva a 10 vince Ci vince Ai manco un round ma vabbè No ma che round è questo? Che round è questo? Arriviamo al ventesimo va Mamma mamma mia Mamma mamma mia Mamma mamma mia Mamma mamma mia Eh, a me non puoi sfilare con l'assalto capri Nooo No non mi costruisce No No Siiii Ma co.. Mi hai fatto 200 vero? No 100 No 100 Ma che cavolo Corrate al nuovo like Un nuovo like Un nuovo like Un nuovo like Mamma mia Un like arriviamo a 10 Un like arriviamo a 10 vai e raga su e 4 spett ovviamente dovrei iniziare a fare le sweet ma cosa dove sei sì raga non lo so non so quando dura la live alessia quando staccheremo me l'ha chiesto anche tuo fratello aspetta raga 5 spette no raga io sono aggando ma la fortuna che sentite i posti vicini ma cosa vabbè 10 like raga siamo arrivati tra che faccio l'ultimo round e stacco e terminano live perché domani una video lezione all'otto alle rame di mattina 12 sì 18 di vita raga 18 non ancora due ragazzo l'ultimo in due è veramente poi stacco veramente faccio dire con uno che spama come non ti ho preso sì no 30 in testa 5 spette raga ultimo round e stacco ormai ho già vinto ma vabbè ok cosa credevi si si ciao io vado bella raga mi saluto prima termina la live condivisione trasmissione eh no non me l'ho detto no non me l'ho detto eh Grazie a tutti.